Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il veicolo dell'incidente era un'auto elettrica di prova autonoma, ha detto la polizia in una nota. Il 43N era alla guida del veicolo autonomo di prova, lunedì pomeriggio. Secondo le forze dell'ordine, il veicolo è una BMW iX, che in una curva ha invaso la corsia opposta per motivi non ancora chiari e ha colpito una vettura, che stava procedendo normalmente in senso contrario. Dopo aver spazzolato una Citroën in arrivo, la BMW ha colpito frontalmente un furgone Mercedes-Benz, provocando la morte di un passeggero di 33 anni a bordo di quel veicolo. Secondo la polizia, nell'auto in prova guidata dal 43N, c'erano due uomini di 31 e 47 anni, una donna di 42 anni e un bambino di un anno e mezzo. I passeggeri sono rimasti gravemente feriti, così come gli altri conducenti, e due passeggeri di 33 anni in due degli altri veicoli coinvolti. Un portavoce della polizia ha dichiarato che non è noto se l'auto fosse o meno guidata dal 43N, che era seduto al posto del conducente. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Il veicolo ha un sistema di assistenza alla guida, di livello 2, che è già incorporato nei veicoli di produzione oggi e che può supportare il conducente su richiesta, ha affermato la società. Con i veicoli di livello 2, il conducente mantiene sempre la responsabilità. La BMW ha aggiunto che il veicolo doveva essere contrassegnato come auto di prova per motivi di protezione dei dati, perché stava registrando filmati. Stiamo indagando sulle circostanze esatte dell'incidente, ha detto la BMW. Naturalmente siamo in stretto contatto con le autorità. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.